Il Milan vince e in parte convince, vittoria fondamentale anche perché la prossima giornata sarà alquanto difficile al Bernabeu contro il Real, oggi era doveroso vincere seppur non scontato perché credo che il Brugia abbia fatto sicuramente un ottimo primo tempo nell'interpretazione della gara e infatti in questo senso vi lascio a questa parte in cui analizzeremo la costruzione del Milan e il lavoro in non possesso del Brugia. E come highlight di questa partita ho voluto proprio soffermarmi sulla costruzione del Milan perché nel primo tempo a me onestamente non ha convinto, non tanto per disposizione tattica ma più che altro per intensità, per movimenti, come poi sottolineerò quantomeno successivamente. Un Milan che ha costruito in questa maniera, con questo 3-2, quantomeno la costruzione alta, anche perché in realtà non si è quasi mai partito da Mignon, non c'è quasi mai stata un'occasione in cui il Milan ha costruito dal basso, anche per situazioni della partita, e Brugia che ha difeso con questo 4-3-3. Però parliamo prima della costruzione del Milan, un Milan che quindi teneva bloccato Emerson qui, in questa sorta di mezzo spazio, mezzo spazio che vi ricordo è lo spazio tra questa linea qui e questa linea qua, qui si chiama mezzo spazio, e quindi si posizionava in questo spazio, l'ampiezza la dava a sinistra le au e a destra Pulisic, quindi le ali con Teo che veniva dentro al campo, e ovviamente poi si poteva inserire, direi molto importante la condizione palla di Teo perché comunque crea subita numerica, riferimento centrale Morata, i due registi sono Fofanà che gioca tendenzialmente più basso rispetto a Reinders, che va a giocare sfalsato comunque a volte anche a compasso qui, comunque si fanno trovare in questa maniera, e poi l'off su Cic diciamo alle spalle dei centrocampisti tra le linee, sempre in questo mezzo spazio. Però devo dire a me è piaciuta molto la fase di non possesso del Bruges, che ha lavorato nel primo tempo molto bene con questo 4-3-3, tra l'altro non andando a pressare molto alto, in pressione alta il Bruges non andava, ma partiva dalla tre quarti a pressare, che poi non era una grande pressione, era un lavoro di schermatura, con quindi i tre davanti che avevano il loro riferimento davanti agli occhi, perché comunque come vedete si accoppiavano praticamente così, anche se poi devo dire il lavoro che faceva il Bruges era a uomo nella zona. Cosa vuol dire? Vuol dire che se Reinders e Fofana lavorano qui, i centrocampisti, in questo caso soprattutto i due mediani, che erano Yashari e Oniedica, restavano qui in posizione. Se questi due qua entravano nella loro zona, quindi alle spalle dei propri compagni attaccanti, subito andavano ad aggredirli in avanti. Stesso lavoro che poi facevano anche i difensori, aggredevano in avanti nel momento in cui poi in realtà arrivava la palla sui giocatori tra le linee, quindi quella è una situazione molto comune, quando si scarica palla poi il difensore parte aggredendo in avanti, se no resta in posizione, se non c'è ovviamente lo scarico. È un lavoro quindi comunque a zona, non sicuramente a uomo, ma è importante il lavoro di Talby, perché Talby partiva più largo. Rispetto all'altra parte Oniedica, mi sembra, era molto più largo. Era una mezzala, ma partiva più largo. Questo perché? Perché così poteva, quando la palla veniva scaricata lateralmente, andare a raddoppiare con una corsa breve, non lunga, a raddoppiare subito Leao. Il lavoro sicuramente era questo. Quindi Leao ovviamente voleva essere, Milano voleva isolarlo in uno contro uno e cercava quel tipo di soluzione e subito Talby così andava a raddoppiare. Dall'altro, molto interessante anche il lavoro di Oniedica. Oniedica è questo qui e Oniedica spesso, spesso, nel primo tempo qualche volta scalava qui, tra i quattro centrali. Quindi andando a comporre una linea a cinque, questo perché il Bruges ha studiato anche questa cosa, ha studiato il fatto che il Milan costruisce molto a sinistra, perché il Milan cerca spesso Leao e ovviamente c'è anche Teo perché vogliono creare subita numerica qui. E l'ha studiata. E ha studiato anche gli inserimenti di Loftus Schick qua. E infatti per prevenire invocate o comunque inserimenti in questa zona che può essere molto pericolosa, Oniedica spesso faceva questo movimento. Quindi scalava tra i quattro centrali e andava a comporre la linea a coprire quello spazio. Quindi l'ha letta, secondo me, veramente, veramente molto bene in non possesso. Ma adesso approfondiamo invece l'aspetto opposto, quindi il lavoro senza palla del Milan e la costruzione da parte della squadra belga. Un Milan che ha difeso 4-3-3, quindi in maniera diversa rispetto al 4-2-4 proposto spesso in campionato. E sicuramente, soprattutto quando è andato in pressione alta, devo dire che questo ha giovato perché nel primo tempo il Bruges provava a costruire dal basso e spesso e volentieri il Milan ha recuperato diversi palloni nella metà campo avversaria grazie proprio a questa pressione intensa con il lavoro in particolare degli attaccanti. Morata che spesso andava a seguire il metodista, Leao e Pulisic che lavoravano invece a schermatura sui vedifensori centrali e sui giocatori in ampiezza, quindi per esempio il terzino 6 che spesso si apriva giustamente perché il Bruges è una squadra di alto livello e quindi giustamente i tre centrali che costruiscono li apre perché costringono poi, in quel caso, Reinders, che era la mezzala del Milan, a fare diversi metri in diagonale per uscire poi sul giocatore in ampiezza. E su Fofana, o meglio su Oniedica che era il metodista, si alzava Fofana, spesso e volentieri e questo portava a lasciare un po' di campo alle spalle sue, quindi era importante che anche la difesa accorciasse bene in avanti e non sempre, devo dire, lo ha fatto e quindi un lavoro comunque in questo senso fatto abbastanza bene. Però, quando invece si era in zone più basse, il Milan è stato un po' più lento nello scivolare, soprattutto quando magari si palleggiava velocemente da una parte all'altra del campo e quindi c'era bisogno di fare delle scalate in orizzontale o all'indietro, la squadra era abbastanza lenta e l'ha sofferto abbastanza quando il Bruges comunque, anche il gol nasce in una situazione simile, scalate fatte male, o meglio fatte in ritardo quantomeno, e quindi sicuramente è un aspetto su cui bisogna lavorare. Poi anche un discorso di caratteristiche, perché Reinders non è veloce, perché è lo stesso Fufanà, gli attaccanti non sono giocatori rapidi che scalano velocemente per caratteristiche, per frequenza di passo, per corsa. Squadra che poi ricerca il fraseggio, il cambio gioco su Leao per isolarlo e poi andare a riempire l'area con più uomini. Dall'altro vi ricordo che sui calci d'angolo si lavora a zona, un 4-3 con Reinders che segue l'uomo, non ho visto chi onestamente, 2 contro 1 esterno e poi Leao al limite, mentre il Bruges lavora sempre a zona, sui calci d'angolo, ma lo fa con questo 5 linea, 1 sul palo, 5 linea diciamo sul limite dell'area, poi c'è 6, l'area piccola ovviamente, 6 fuori dall'area piccola che tiene d'occhio Loftus-C, no, tiene d'occhio Tomori, Oniedica a uomo su Loftus-C, 2 contro 1 esterno e poi ce n'era uno pronto per ripartire, penso fosse Talbi, non ne sono sicuro comunque, penso fosse lui. Bruges che invece in costruzione ha lavorato a 3, con 6 sbloccato a destra, che era il terzino, poi due fondamentalmente in linea che hanno i due registi, quindi Oniedica e Yashari, con a sinistra De Kuiper che comunque dava l'ampiezza e si sganciava di più rispetto ovviamente ai compagni, e Zolis che lavorava più, diciamo, dentro al campo in quel caso, a destra invece lavorava Talbi in ampiezza, quindi comunque l'ampiezza era data da De Kuiper Talbi, Zolis comunque poteva aprirsi a sinistra, infatti poi spesso Bruges ha lavorato a sinistra, ha attaccato da quella parte del campo, Talbi come detto in ampiezza a destra, e Jutkla comunque riferimento centrale con Vana che è nel mezzo spazio destro, e squadra che comunque cerca spesso anche in costruzione bassa la palla diretta proprio su 6, 6, quindi sul terzo uomo esterno proprio come dicevo per far sì che il Milan corresse e scalasse in ritardo poi fondamentalmente, per poi andare dall'altra parte, quindi c'era la ricerca di un palleggio da un lato per poi andare dall'altra parte. Primo tempo, tra l'altro squadre anche abbastanza simili poi sotto certi aspetti perché anche il Bruges ha difeso come abbiamo detto 4-3-3, però come detto un primo tempo dove a me il Milan non è piaciuto perché il palleggio è stato troppo lento, troppo prevedibile, pochissimi movimenti senza palla coordinati, nessuno attaccava la profondità, c'era veramente un'assenza di idee, di intensità, però ovviamente buon lavoro poi nel recupero palla nel metacampo avversario. Tra l'altro Bruges che parte forte con diverse conclusioni a sinistra con Solis in particolare e colpisce anche una traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Ordonez al settimo minuto. Poi il Milan trova questo gol, anche abbastanza fortuito al 34esimo, angolo nato da una grandissima lettura di Theo Hernandez che fa ripartire la squadra e poi va a battere Pulisic orientale sul primo palo, nessuno la tocca e quindi gol direttamente da calcio d'angolo. Poi ancora episodio fortunato perché il Bruges resta in dieci per l'espulsione giusta di Oniedica, brutto fallo su Reinders e quindi viene espulso e Bruges che poi difende 5-3-1 nel finale con tal B quinto e Milan che inizia a costruire con questo 3-2, diverso rispetto a prima perché se prima costruivano 3-2 con Fofana e Reinders registi, nel finale ha costruito con registi Reinders ed Emerson, Fofana invece andava a fare il centrale dei tre dietro, quindi ha invertito Fofana ed Emerson ma non ne ho capito sinceramente l'utilità di questa cosa. Poi nel secondo tempo Bruges che ha difeso 4-3-1-1, lavorando comunque sempre nella sua metà campo, difendendo con diciamo blocco basso anche perché giustamente si ritrova con l'uomo in meno, provava a lavorare più in transizione e trova anche il gol, un bel gol che nasce al cinquantesimo da un'apertura su De Cui perché è davampiazza sinistra. Palla, tra l'altro scala Emerson un po' in ritardo ma lì perché giustamente il terzino stringe poi deve correre in orizzontale per uscire lateralmente e ci vuole tempo. Non lo fa neanche con grande intensità per carità. Trova dentro poi De Cui per Vanaken, l'off to cheek poco poco reattivo in quell'occasione, molto anche piatto. Vanaken in buca per Solis, grande inserimento nel mezzo spazio sinistro, cross basso all'indietro in direzione di Betlesen che è bravo a proteggerla, ad allargare su Sabbe che fa 1-1 e poi devo dire bene gli ingressi di Okafor e Ciuqueze. Okafor in ampiezza sinistra, Ciuqueze in ampiezza destra, con Pulisic che ha dato a fare la mezzala, quindi si è rimasti in entrambe le fasi allo stesso modo, sia in possesso che in non possesso sia rimasti allo stesso modo, con il solo cambio che al posto di Loftus circa Topulisic invece Largo ci ha dato Ciuqueze comunque a puntare l'uomo, a creare subietà numerica e Reinders ha totale linee peraltro perché si è costruito a 4-1 invece che 3-2 come prima 4-1, con Reinders più alle spalle dei centrocampisti e avversari. E devo dire che la soluzione è stata anche molto positiva perché poi Reinders ha tempi di inserimento abbastanza interessanti, soprattutto perché poi Bruges sui cross lavora 4-2 e tende a schiacciarsi molto verso la porta. E' successo proprio così nel caso del 2-1 con Okafor che ha penetrato salta di netto sabbe, mette questo cross basso all'indietro in zona limite dell'area e trova Reinders che fa di piatto il gol del 2-1. Tra l'altro poi autotraversa il Bruges su calcio d'angolo al 64esimo, al 71esimo Ciuqueze recupera palla destra, salta Vanaken, ancora cross basso per Reinders che segna ancora di piatto, fa 3-1 e chiude la partita. Poi Bruges che fatica a guadagnare campo, soffre. Entrano Musa, metodista, Camarda a cui viene annullato un gol e gli spiace un sacco perché ha fatto bene, si è proposto diverse volte venuto a incontro per cercare di giocare con i compagni, di dialogare, due occasioni comunque in cui ha scaricato bene all'indietro, quindi si è fatto trovare, peccato per il fuorigioco e poi è entrato anche Ciao nel finale. Comunque vittoria importante nonostante, ripeto, non sia stata straordinariamente incredibile, ecco. Però, comunque, da sottolineare i tre punti. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi!